Allora, vacanze, tema naturalmente molto attuale, c'è chi le passa all'estero, c'è invece chi le passa a Tre Ponti. Eh no, assolutamente, vacanze a Tre Ponti sono da non perdere, abbiamo gente da tutto il mondo che viene. Il spettacolo inizia il 5 di agosto, non mancate, un venerdì caldissimo, ci sarà da divertirsi, queste vacanze imperdibili a Tre Ponti, sapremo come passare le vacanze a Tre Ponti, ma che vuoi, che caraibi, ma che forma intera, ma che ibiza, Tre Ponti!